Mazzesi calcia bene al volo, esce Serbini col corpo ancora Mazzesi La deviazione proprio davanti Opara è di Regis 1-0 CJ che comincia a violare la porta della Golbet qui allo sport Codignoli fa filtrare il pallone Poi serve Sarace che si accentra a calcia Può solo toccarla Opara, raddoppia il CJ Alessio Sarace fa 2-0 Si allarga la sfera poi si butta dentro Mancinelli la piazza all'interno della porta Facendo 3-0 che gol di Mancinelli Che anzione di Lorenzo Princigal